Buongiorno ragazzi, eccoci qui con un altro nuovo video sulla tecnica di come accendere lato con una corda. Parlando con alcuni amici e lettera auto, siamo giunti ad alcune conclusioni del perché accendere lato con una corda è l'opzione per molti versi migliore. Perché? Innanzitutto perché con l'avviamento all'americana eventuali strattoni sul sistema ingranaggi e sul sistema trasmissione verso il motore sono comunque maggiori e meno gestibili rispetto alla trazione con una corda. Per i principianti che non sanno e non hanno di destichezza con l'accensione all'americana, quindi con il rilascio progressivo della frizione per dare una forza progressiva al motore senza strattoni, è sicuramente più difficile. Spesso vengono rilasciati di scatto le frizioni e danno parecchi contraccolpi al motore. L'altra opzione che è l'accensione con i cavetti in parallelo di un'altra auto che abbia la batteria carica è un'altra opzione che non è molto consigliata dai meccanici ed elettrauti, proprio perché crea parecchio stress, soprattutto alle centraline delle macchine moderne. L'opzione migliore per molti versi rimane utilizzare eventuali booster o batterie cariche scollegando il cavo del positivo della batteria e collegando il booster, avviando la macchina utilizzando l'energia del booster, della batteria usiliaria o quella che abbiamo in dotazione o un'altra batteria carica staccata. A quel punto possiamo ricollegare la nostra batteria scarica tenendo il motore acceso, evitando cortocircuiti. Quella comunque è l'opzione migliore perché sfrutta l'energia di una batteria carica usando il motorino di avviamento della macchina stessa e creando meno stress elettronici possibili. L'alternativa della corda è comunque un'alternativa estrema da fare solamente in casi particolari dove non si ha un booster a disposizione o si ha la possibilità di chiamare un elettrauto di fiducia per farvi riavviare la macchina. Un elettrauto di fiducia è comunque la scelta consigliata. L'avvio con la corda può, come ho spiegato all'inizio del video, essere una scelta possibile in occasioni particolari in cui altre alternative non sono disponibili. Vi ringrazio per l'attenzione, ricordatevi di mettermi piace a questo video e iscrivermi al mio canale. Grazie.